Quando temiamo davvero a qualcuno, viene spontaneo prendercene cura. Si tratta di piccoli ma sinceri gesti d'affetto che riserviamo solo a chi amiamo davvero. Se anche tu tieni al benessere della tua famiglia, assicurati che proprio tutti riposino bene. Entra in un negozio Permaflex. Scoprirai la qualità made in Italy che da 70 anni rende unici i suoi materassi. E oggi potrai avere materassi, letti, poltrone e accessori scontati fino al 60%. Vieni a scoprirli in negozio. Troverai il più vicino a te su permaflex.it Permaflex. Oltre il tempo.